Sarò molto breve. Sì, è suggestiva questa qua, ci sono libri interessanti, c'è un libricino di Amartya Sen su La democrazia degli altri. Sì, io mi sono molto chiesto, prima la professoressa Herculesi diceva in realtà le primavere ci sono state. Noi abbiamo creduto molto nei processi di democratizzazione degli anni 90. Qualcuno appunto aveva già parlato di renaissance africana, in quegli anni la Tabo Mbeki e tutto ciò. Io vedendo quello che sta avvenendo nel mio paese di origine, il Congo Brazzaville, dove il presidente ha detto, una cosa che potrebbe sottoscrivere bene Vladimir Putin, ha detto, on organispa les elezions pour les perdre. Non si possono organizzare elezioni per poi perderli. Quindi le elezioni. E' il contrario. Ora, uno che dice così, e come lui lo dice il presidente della Guinea Equatoriale, il presidente del Gabon, il presidente del Camerun, BIA, che si è fatto rieleggere recentemente, cioè il termine proprio queste democrazie autoritarie, è un tema interessante, dove tu hai tutte le forme esterne, la Camera, il Senato, però alla fine non c'è separazione dei poteri, i diritti fondamentali dei cittadini non vengono rispettati, quindi non c'è trasparenza nella gestione delle risorse, e le risorse in quei paesi come il Congo e l'Angola sono ingenti, stiamo parlando di ricchezze ingenti. Io sono arrivato a un'idea dove forse bisogna immaginare, salvo restando il rispetto dei diritti umani, la libertà dei cittadini, forse immaginare delle forme di democrazia consensuale, in questa fase iniziale dei processi di democraziazione, che dia l'occasione anche a quelle etnie che hanno solo 2%, cioè in paesi dove ancora più o meno l'appartenenza partitica coincide con le appartenenze etniche. Se io domani torno a Brasaville e fondo un partito, questo partito vincerà sicuramente perché la zona di Brasaville è abitata dall'etnia dei Bacongo, che sono maggioritari, perché tutti i Bacongo si iscriveranno al mio partito, qualunque siano le idee che io esprimo. E i pigmei, che sono lo 0,50%, non vinceranno mai, le elezioni. Quindi se questa è la situazione fotografata in modo realistica, è possibile trovare delle forme di gestione consensuale che possa garantire tutti. Questo è un po' quello, comincio un po' a chiedere quello che è successo in Costa d'Avorio, ma davvero possiamo stabilire che Ouattara ha vinto e quell'altro ha perso. E tutta quella gente che seguiva Babbo, forse anche sinceramente, che hanno rappresentato, che rappresentano un pezzo di Costa d'Avorio, che fine fanno? Quindi sono problemi molto complessi. Io, forse è meglio che risponda su questo, la professoressa Ercolessi, che studia soprattutto i sistemi politici. Il problema che mi angoscia a me è quello dell'elite che confisca il potere e non ha un sufficiente raccordo con il resto della popolazione. Mi sono sempre chiesto, come mai l'America Latina, che ha livelli di povertà e di sfruttamento forti, ha espresso dei movimenti sociali di massa, di ribellioni di massa. Tutto sommato, le guerre d'Africa, secondo me, rimangono delle guerre d'elite. Perché non c'è stato, non ci sono state delle guerre di massa, una ribellione, una rivoluzione di di ceti popolari che a un certo punto si ribellano, si organizzano per cambiare le cose. Stavamo a Lampedusa con un prete della Tanzania che sta lì a Lampedusa che mi ha fatto questa riflessione amara, drammatica. Stavamo nel cimiterio anonimo di Lampedusa dove ci sono persone sepolte senza nomi e senza croce perché non sapendo se sono cristiani o musulmani. E lui mi diceva, era al calar della sera, Lampedusa è molto bella e quindi c'era questo contrasto tra la bellezza del luogo e la drammaticità di quelle tombe senza nomi e senza croce. Lui diceva ma perché siamo pronti a morire in mare per venire in Europa e non siamo pronti a morire nei nostri paesi per fare una parola che non so se si può pronunciare a Pordenone, la rivoluzione. Queste sono domande che a me angosciano molto e di cui non ho risposte. Vorrei dire qualcosa io proprio per dare poi la parola a Cristina Ercolessi. Io non credo di essere d'accordo con quello che Cristina ha detto prima circa il fatto che le primavere nell'Africa e africane ci sono già state. Sicuramente c'è stata una democratizzazione diffusa in numerosi paesi alla fine degli anni 90. Però con alcune luminose eccezioni direi principalmente il Sudafrica dove la fine della parte e l'avvento della democrazia politica è stato veramente il punto di arrivo di un movimento di massa durato molti anni e dove la gente ha pagato col proprio sangue e questo risultato in molti altri paesi è stato un po' come funzionale della Banca Mondiale con le loro valigette che diceva prima di cui parlava prima Gioleonard che venivano a portare le loro ricette economiche. Lo stesso è stato sulla imposizione della democrazia politica da parte dei paesi donatori. All'indomani nella caduta del muro di Berlino c'è stata questa parola d'ordine o fate le elezioni o non vedrete più i soldi per dirla in breve. Quindi diciamo c'è stata una democratizzazione ma una democratizzazione secondo me non chiamata non ottenuta diciamo da un movimento in molti casi da un movimento popolare da un desiderio delle società ma diciamo avvenuta per accordi internazionali o per accordi di vertice chiamiamoli così. In questo penso che le primavere arabe siano diverse e queste si può discutere l'esito che hanno avuto si può discutere anche lì se queste nazioni hanno saputo lottare insieme o si sono divise come quella per esempio bibica però sicuramente sono state sommosse di popolo diciamo se non rivoluzioni io penso che sia difficile discutere questo che piazza Tarir non sia stato il cuore di un vero moto popolare dell'Egitto che chiedeva democrazia. Ecco secondo me questo deve ancora avvenire diciamo e io penso che noi vedremo di questi fenomeni nell'Africa a sud del Sahara se non in quest'anno diciamo nei tempi nel futuro prossimo ecco per vari motivi legati anche allo sviluppo economico adesso non voglio dilungarmi su questo però ecco in sintesi io penso che questo accadrà e penso che le primavere arabe scusate africane salvo eccezione ci debbano ancora essere non ci sono ancora state ma io proverei a rispondere così io credo che dobbiamo forse cercare rispondo prima alla questione della classe media perché mi permette di prendere una cosa che volevo in realtà già anticipato tu a di ma insomma la voglio ripetere il mio discorso sulla classe media era questo cioè c'è sicuramente un elemento diciamo positivo nella crescita della classe media in Africa da un certo punto di vista che è quello probabilmente di potenzialmente creare stabilità cioè classe media in genere abbastanza interessata a avere sistemi stabili quindi questo potrebbe agire io una cosa che dico spesso per esempio su Sudafrica una classe media vasta è probabilmente una situazione che riesce a garantire un qualche tipo di stabilità politica non far precipitare dentro a conflitti troppo accentuati il mio discorso sulla classe media andava esattamente nel senso che diceva lei cioè storicamente in altri contesti la classe media ha agito come attore della democratizzazione non è detto che questo sia così ovunque abbiamo molti casi in cui invece la classe media sta avendo dei ruoli diversi sta avendo dei ruoli addirittura conservatori cioè non dal punto di vista della democratizzazione quindi da questo punto di vista sono d'accordo con lei riguardo al caso africano anche se poi la classe media cercavo di dirlo prima andrebbe poi scomposta naturalmente una cosa sono i giornalisti o gli intellettuali o anche certi professionisti io parlavo soprattutto di una classe media di tipo imprenditoriale da quello che potremmo definire per noi nei nostri contesti una borghesia per quello che storicamente è stata una borghesia nei nostri contesti è chiaro che lì non sta avendo quel tipo di funzione non la stanno avendo neanche tecnocrati cioè nel senso che tecnocrati stanno avendo funzioni secondo me di tipo conservatore anche quelli molto molto capaci compreso l'attuale presidente della costa d'Avorio Wattara che arriva dal fondo monetario questo per esempio è un ricambio che c'è stato in Africa che da noi è stato poco notato cioè che in realtà molta gente che ha avuto una formazione all'estero in università internazionali soprattutto americane inglesi soprattutto anglo-americane che è passata attraverso la banca mondiale il fondo monetario eccetera sta in questo momento occupando le presidenze sta occupando i posti di ministri delle finanze tanto che c'è qualcuno che parla ormai di una tecnocrazia internazionale che è quella che è realtà di un'elite internazionale di tipo tecnocratico che sta in qualche modo conducendo la danza per così dire anche in quei paesi e il riferimento che volevo fare io e qua arriviamo a discorso che ha sollevato sia più pessimisti di me da questo punto di vista forse è che io trovo un po' curioso che noi parliamo la cosa che volevo dire prima che loro parlassero loro mi hanno anticipato parliamo molto poco di movimenti sociali in Africa cioè parliamo dell'elite parliamo delle tribù parliamo delle etnie parliamo delle centimedi eccetera movimenti sociali non li questo è di nuovo uno sguardo etnografico cioè l'idea che l'Africa i movimenti sociali non li può avere sostanzialmente no di fatto perché o ci sono le tribù o ci sono l'elite ma insomma come se non io credo invece che io ho visto una crescita dei movimenti sociali negli ultimi dieci anni in Africa cioè non voglio dire i soliti social forum o cose di questo tipo ma ci sono movimenti contadini ci sono il fatto che noi non ce ne stiamo occupando non vuol dire che non ci sia ci sono movimenti studenteschi ci sono state piccole proteste allora qua io vorrei così provare a incoraggiare un'ipotesi metodologica a me sembra che noi continuiamo un pochino questo è un po' se posso polemizzare con i miei due amici qua a ragionare in termini di o c'è la grande rivoluzione o non c'è niente cioè guardate anche il modo che io mi sono arrabbiata in maniera assolutamente stavo urlando quella mattina quando ho letto un titolo di Repubblica che diceva della primavera araba all'autunno islamico mi sono messo a urlare perché in tre mesi se fosse passata la primavera araba all'autunno islamico secondo me non è accettabile come analisi non è un'analisi allora io neanche politica cioè non sto parlando mica di scienza in questo momento voglio dire sto cercando di fare un discorso così cultural politico diciamo allora per esempio noi abbiamo cominciato a riflettere anche con alcuni colleghi sulle primavere arabe grazie anche come sia giustamente il signore a una serie di giovani studiosi che stanno magari studiando i sindacati egiziani al Cairo cose di questo tipo e ci siamo accorti come ci siamo dimenticati che trent'anni fa OMS è stata rasa al suolo dai siriani dallo stesso regime che c'è adesso è trent'anni che lì c'è una resistenza frantumata massacrata repressa che però rinasce ogni 3-4 anni solo che noi ce la scordiamo è come se la contestazione sociale e la protesta politica in questi contesti non avesse storia è come se uscisse fuori così all'improvviso piazza sono d'accordo è chiaro lì c'è stata una grandissima cosa di massa io credo veramente che non sia del tutto giusto dire per esempio che non c'è stata contestazione sociale in Africa parlo dell'Africa subsahariana insomma negli ultimi 20 o 30 anni o che anche il discorso della democrazia sia stato fatto solo ad opera di attori esterni cosa che sicuramente c'è stata non lo sto negando io vorrei chiedere quanti sono stati giornalisti morti ammazzati in Africa in questi anni scusate io potrei fare una lista dei cosiddetti regimi democratici soft dall'Angola o rischiano di essere nel giro di non so se questo è un criterio o no di quelli su cui c'è una resistenza democratica con gente che gli viene impedito di farlo poi sono d'accordo con voi nel dire che estremamente sindacati non ne parla più nessuno in Africa come si stesse o quelli sparacchiati dai cinesi nelle meniere dello Zambia a me sembra che siano allora io una cosa che ho sempre detto è che in Africa sono stati centinaia e centinaia di piccole tienanmen piccole tienanmen non grandi tienanmen che però hanno fatto secondo me una trama in qualche modo non è la rivoluzione sono d'accordissimo anch'io non so se mai esploderà in qualcosa di simile a quello che è avvenuto in Tunisia o in Egitto o una grande rivolta di popolo o no ma delle pressioni cioè delle forme di contestazione di protesta anche su cose economiche cioè dall'aumento dei prezzi dei cereali piuttosto ci sono molte storie di questo tipo che sono avvenute fino alle cose più recenti cioè Senegal quando ha messo ha impedito a Yostun Dur di candidarsi no naturalmente per esempio le proteste mi piacciono se no vinceva certo voglio dire cioè non voglio dilungarmi troppo ma uno dei problemi secondo me è che come spesso succede in paesi in cui lo Stato è poco efficace è debole nel senso di poco efficace non che poco autoritario anche le società civili sono spesso debole frantumati divise le fanno fatica ad agire quindi è chiaro che è un processo che andrà la cosa ha ragione Pietro a dire può essere interessante vedere se per esempio questo maggior dinamismo economico che sicuramente c'è anche se per me sta creando molta diseguaglianza ma c'è certamente un grande dinamismo economico se questo per esempio porterà a consolidare delle nuove forme per esempio di protesta sociale proprio perché crea diseguaglianza esattamente cioè può io naturalmente sto proponendo una lettura ma sto proponendo così cioè non voglio essere troppo troppo transciante su questo io sono un po' meno ottimista sull'economia del dono e l'informale come economia popolare alla tush credo c'è chi l'ha fatto anche alcuni dei miei ex studenti diciamo che fare un po' di analisi di classe di quello che succede dell'economia informale non sarebbe male e si scoprirà che c'è certamente una fascia popolare una fascia familiare una fascia di grande creatività ma c'è anche molto lavoro nero punto nero punto ma proprio di quello spietato cioè vuol dire che in Africa si sia come qualcuno dice scatenando l'istinto animale del capitalismo sembra che non ci siano dubbi e questo è interessantissimo però è anche quello quindi non direi di essere forse troppo romantica su queste cose credo che il nostro tempo sia scaduto è così anche perché siamo a Pordenone appunto per quello dico tutti a let prego prego io non sono io il padrone dei casi quindi ben volentieri ben volentieri appunto non dicono niente Volevo chiedere qual è il ruolo della donna quali sono i ruoli delle donne in questa Africa che sta cambiando abbiamo visto premi Nobel di recente penso a Wangari Mattai penso alla nuova presidente alla prima presidente donna come sta cambiando il ruolo della donna so che sei un uomo ma due parole su l'economia vernacolare no non credo penso anch'io che in alcune descrizioni di Latouche soprattutto nell'altro mercato ci sono degli elementi un po' di idealizzazione il mio invece è un semplice costatare che tra Brasaville e Kinshasa per meccanismi diversi hanno conosciuto una crisi economica terribile Kinshasa con un dittatore la cui moneta poi si è svalutata in modo una svalutazione dell'inflazione che ha raggiunto il 2000% il 3000% e Brasaville per altri motivi intere famiglie hanno sopravvissuto attraverso forme di produzione e riproduzione della ricchezza assolutamente anomale atipiche non tradizionali e come la mia di famiglia altre in tutta la città in tutto il Congo in tutto lo Zaire ex Zaire Congo Belga quindi è una fotografia di una realtà economica che si è costruita al di fuori dell'ufficialità e che all'interno ha espresso certamente forme di lavoro di sfruttamento di lavoro però che erano anche collegate a strutture familiari relazionali sociali preesistenti alla crisi sicuramente però ciò che mi interessa almeno per quanto mi riguardi è come si può far ripartire le economie di questi paesi senza tener conto di ciò che dentro la crisi la gente ha sperimentato ecco questo è un po' quello che anche così per restituire l'economia e alla gente protagonista e su questo ovviamente le donne hanno un ruolo non dico fondamentale primario primario e non si smetterà mai di studiare le forme di socialità e le forme di economia messo su dal protagonismo al femminile riuscendo anche a superare gli attavismi gerarchici che esistono ancora all'interno della società africana e che continuano ad esistere anche in ambienti urbani a volte stranamente di solito la città uccide ciò che in ambienti rurali ancora preesisteva però alcune forme di presa di potere sulla donna continuano anche in città nonostante questo c'è un grande un grande il fatto che noi abbiamo fatto una campagna per candidare le donne africane al Nobel era il frutto proprio di chiunque andava nel continente viveva lì studiava e osservava semplicemente poteva accorgersi che la risorsa la risorsa di questi continenti di questi paesi anche in tempi di guerra anche in situazioni complicate dove lo stupro è diventato strumento di guerra anche in quei campi dove l'abiezione umana ha travolto qualunque tipo di dignità della persona le prime a rialzarsi sono proprio le donne e questo deve assurgere anche secondo me al paradigma politico attraverso una loro presenza una loro iniziativa nei processi di riconciliazione nei processi di pace nei processi di costruzione di un modello politico non fallico ma di un modello politico diverso questo di questo questo però è un atto di fede da parte mia allora penso che possiamo ringraziarvi e magari arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti